Musica Buon pomeriggio amici di Sbava la Lumaca Oggi parliamo di motociclismo e nella fattispecie di Valentino Rossi che nasce ad Urbino il 16 febbraio del 79 è uno dei primissimi motociclisti mondiali della storia di tutti i tempi ed è il primo ad aver vinto il campionato mondiale in quattro classi diverse la 125, la 250, la 500 e la MotoGP è lui il detentore del record per aver disputato consecutivamente i gran premi nel mondiale con ben 228 presenze il numero 46 che brilla sulla sua moto lo accompagna da sempre rifiutando e avrebbe potuto di avere il numero 1 stampato in quanto campione essendo lui in carica che poi era stato il numero utilizzato dal papà Graziano Rossi anche lui ex motociclista la sua carriera inizia nel 1900 nella categoria 125 e appartiene alla scuderia di Aprilia dal 96 al 99 in Honda dal 2000 al 2003 in Yamaha dal 2004 al 2010 ancora in Ducati dal 2011 al 2012 e nel 2013 torna in Yamaha ha vinto 9 mondiali ha disputato 280 MotoGP ne ha vinti 105 per un totale punti di 4.604 è stato 178 volte sul podio 59 volte in pole position e 87 giri veloci si è accimentato anche nel rally esordiendo nel 2002 e ne ha disputati 3 la sua più grande rivalità fu con Max e Biaggi questo amatissimo campione ci catturerà con ulteriori approfondimenti che svilupperemo nelle prossime puntate perché abbiamo intenzione di fare un discorso più approfondito su Valentino Rossi è tutto da Sbava la Lumaca un cordiale arrivederci da Rita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.